Bentornati su MyFootballGersy. La tanto attesa maglia del Napoli è arrivata. Questa è la prima maglia per la prossima stagione, la 23-24, in edizione FAN. La prima maglia per la prossima stagione. Maglia stupenda, più bella di quella dell'anno scorso. La rifinitura col tricolore poi dà un tocco veramente in più. Il costo lo vedete qui sopra, molto basso, tra l'altro include anche le spese di spedizione. Se volete ordinare la maglia trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Ora vi lascio alla parte finale. Prima però iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN.